Ciao a tutti, buona e santa serata. Termina questo giorno e ringraziamo il Signore sempre. Oggi voglio insegnarvi la preghiera dei cinque baci a Gesù bambino. Allora, intanto dovete prendere un Gesù bambino. Io penso che a casa in questi giorni abbiamo tutti un Gesù bambino. Quello del presepe, quello che magari abbiamo ricevuto in chiesa durante il bacio del bambinello. Per esempio noi l'abbiamo fatto la notte, il giorno di Natale e abbiamo regalato a tutti i Gesù bambini. Oppure abbiamo sicuramente un bambinello Gesù. L'avete trovato? L'avete preso? Guardate quanto è bella questa preghiera e questo atto di riverenza, d'amore, di devozione al bambinello Gesù. Intanto segniamoci con il Segno della Croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Baciando la manina destra di Gesù Gesù, quel che vuoi tu, voglio pure io. Voglio perché lo vuoi, o Gesù mio. Baciando la manina sinistra. Gesù, quel che vuoi tu, voglio pure io. Lo voglio come lo vuoi tu, o Gesù mio. Baciando il piedino destro. Gesù, quel che vuoi tu, voglio pure io. Lo voglio quando lo vuoi tu, o Gesù mio. Baciando il piedino sinistro. Gesù, quel che vuoi tu, voglio pure io. Lo voglio finché lo vuoi tu, o Gesù mio. Baciando il cuore del bambino Gesù. Gesù, quel che vuoi tu, lo voglio pure io. Lo voglio perché tutto da te viene e tutto è per tua gloria e per mio bene. Sia pure qualunque cosa. Gesù mio. O mio Gesù, dolce mio Signore, dammi quello che vedo nel tuo cuore. Dolore perché non manchi in me l'amore. Amore perché non manchi nel dolore. Amore a disprezzare ogni altro amore. Che bella questa preghiera. In pratica, con questi cinque baci, abbiamo chiesto quello che vuole Gesù. Quando lo vuole lui. Come lo vuole lui. E finché lo vuole lui. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti. E se Dio vuole, ci vediamo domani. Sempre. Vi voglio bene. Grazie. E Se Dio.